faccio questo video credo un po per esorcizzare cercare di tirar fuori un po di cose nella speranza che possa far bene anche a me e ora sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo il che comporta un percorso un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare non ora non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto insomma quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha mi ha dato conforto e quindi se anche è una cosa che sicuramente mi sento di di fare in futuro quello di raccontare questo questa mia nuova avventura perché se se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come come è la mia bellissima famiglia mi fa pensare che è questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare mi rendi conto che in questi anni o è come se avessi avuto in questo questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e e solo ora mi rendo conto dell'importanza magari di di essere riuscito a magari a strappare un sorriso dall'altra parte del dell'apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile perché quell'album condiviso in questo momento sarà sarà anche la mia forza e e servirà per strappare un sorriso a me e quindi anche questo forse mi sta riuscendo a ad attribuire un valore di una cosa che prima magari non notavo e quindi niente mi sentivo di buttare fuori un po di merda letteralmente e e nient'altro in questo momento non sono abbastanza lucido per per andare oltre ma sono pronto ad affrontare diciamo questo questa nuova avventura che la vita mia mi ha presentato e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni e tutti i miei amici e la mia famiglia e vi mando un abbraccio grande spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile ciao